Allora oggi facciamo un menù a base di pesce. Qui abbiamo delle bavette che io ora le sto facendo rimescolare con crema di asparagi, gamberetti e tentacoli di calamari. E questo è il primo. Mentre per secondo abbiamo tolto nella griglia con salmone pressato e gamberi. E per oggi è il nostro menù di pesce. Buon appetito!